La città per come si sta presentando oggi è una città bellissima, più bella ancora di come non fosse prima del sesma ed è una città assolutamente vivibile. Ecco perché noi abbiamo voluto promuovere una città, un'idea di città dinamica, di città assolutamente viva, comunità e quello che è stato promosso in questo sito, prima ancora dei monumenti da visitare, è quello che c'è intorno ai monumenti, proprio per dare la dimostrazione di come la città non sia una macchia di leopardo, non abbia soltanto qualcosa da vedere intorno al nulla o alla distruzione, ma in realtà ogni monumento può essere il fulcro di un interesse e di una passeggiata e perlomeno di curiosità che possono essere scoperte intorno a ciascun luogo. Noi andremo a inserire sul nostro portale tutti i riferimenti del dove vivere, del dove mangiare e in tutto questo il Formez è stato il nostro punto di forza. Grazie. Grazie.